ciao a tutti ragazzi e ragazze il conto è il mio nav e non per battere il mio in questo video vi farò vedere dove si chiudello battere lo supercancio io ce l'ho viola come ti doveri da fuori dalla scatola l'ho modificato e quindi è un po' più appiccioso perché ho messo troppa crema la crema li fa diventare si deve scadare li fa diventare un po' troppo liquido eccolo qua c'è un po' più piccioso, non è più di che, ora come potete notare non si sacca facilmente, ora è la caccia, comunque è stramorbido, come ho detto, è modificato, e poi il mio profumo è Beatty Jiggly, che sarebbe l'anguria, perché il profumo è di anguria quando l'ho comprato, però ora non provo più l'anguria, perché praticamente devo dare anche una barba, il profumo della crema, la crema comunque è alla pesca, la pesca amo, e sarà amo, mi dispiace per l'assenza, aspettate che non si caccia tutto, vabbè, basta, oh my god, eccolo qua, come potete vedere, non è abbastanza appiccicoso, però un pochino, perché rimane abbastanza, comunque è molto scoppiettante, è molto sedoso, momento del semestre, per il momento del semestre, mettete la cuffia, e allora, come potete vedere, non è abbastanza appiccoso, perché rimane abbastanza appiccoso, comunque ragazzi, è stra bello, potete notare, è un pochino, ma un po' di schifo, un po' di schifo, un po' di schifo, è stra bello, uno mi consiglio tanto, perché io sono scema, perché quando l'ho aperto, era bello, ma non come piaceva a me, cioè non si stendiva, eh, era un po' duro, cioè si allungava, sì, però non si allargava, si stendiva, e poi non si stendeva tanto, il bullo, il bullo, come il bullo, come il burro, voglio dire, invece ora ho messo la crema, è diventato, tipo, come devo, non so spiegarvelo, ragazzi, come si dice, un po' di crema, sembra liquido, però non lo è, comunque non vi dico il casino che c'è a terra, che sulla tavola c'è sempre il casino, è super tessetoso, poi, comunque le palline, comunque, sì, mi direte, perché non l'hai fatto il video, quando lo è direttamente aperto, lo modifichiamo con noi, e ragazzi, come sapete, il mio telefono è scemo, c'ho sempre la memoria piena, e non la posso mai bloccare, comunque, è sabello, se mi, se ci penso, un momento, la c'è la bocca, come si dice, modellando, non lo dice, modellandolo, boh, vabbè, comunque, modellandolo, diventa meno appiccioso, ecco qua, con le palline se lo sceglie una bustina sotto lo schildone, anche sotto lo schildone, comunque, ve le consiglio tanto, comunque, se vi escono un po' duri, come la disemiglia, modificate con un po' di crema, schildone, e spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, un bacione, ciao!